Hai presente il mio cugino Francesco? Sì, il mio cugino preferito. Ecco appunto, ci ha invitato per il suo matrimonio ad agosto. Ad agosto, amò. Ci dobbiamo andare. Fa troppo caldo, lo sai, non lo sopporto. Perché? O vedo la scide, ce può scappar o mo' hai to. E come fai per un po' di caldino? Un po'. L'ultima volta, o zio, ce squagghiò il parrocchino. Ah, mi raccomando. Compra il vestito, faremo un figurone. Ma vecchione è buono che dura a me comunione. No. Non fare il dirchio e guarda anche la busta. E' piano. Secondo me, questa è la cifra giusta. Cinquecento euro. Buoni sono. Ma che scherpio si. Li servono per pagare la cava. Ci lancio il termese. Non farei così. Non esiste, sono troppi. Sono per Franceschino, ma che problema c'è? In effetti Franceschino, ma com'è in che? No. 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 Mi cherepio si. No. No. No.